io direi che parto cercando di fare una canzone che abbia un senso pur partendo da qualcosa di totalmente senza senso generatore generatore tu amico mio che mi proponi il solamente notare no non vai bene logorato correre portarlo quantunque questa ravanelli lontano quaresimale il zeppo magnone ovvero allora personalizziamo questo titolo randomizzando le possibilità ok cambiamo intanto gli forti il dispettoso romano il masse d'onde distinta gaio lo ed instabile hawaiano lo o instabile hawaiano non mi dispiace instabile hawaiano allora facciamo che cambiamo anche il background e mettiamo un instabile hawaiano di sfondo no no ovviamente almeno un bel mare hawaiano forniscimelo il 99 per cento delle immagini che si propongono quando lo cerco sono di spiagge mare oggi niente dei muri delle albicocche delle metropolitane quindi dai sì dai mare hawaiano guarda qua che onda qua sicuramente c'è gente che surfa come come i pazzi allora generiamo il testo da questo instabile hawaiano lo o così di base vediamo se c'è qualcosa di simpatico dunque narcotizzato dunque narcotizzato masochista l'orchereo e la miseria abbiamo un po di roba narcotizzata e masochista direi che non cambia più instabile hawaiano lo o questi nostri sempre il il raspal che ignoriamo cosa sia cambiamo dai il telegrafo roberto benigni console tardi andare eschimo scomparire mandaranci prima gelano instabile fitness lo o tenere e togliere e vendere instabile fitness lo o tenere e togliere e vendere grillo talpa le cicerche lo cicerche le lo dai le cicerche esporremo ora ma se se aggiungo scelgo una base vediamo un po' una base abbastanza noiosa ma io impavida la faccio adesso invento una fantastica canzone fantastica per modo di dire ovviamente su Instabile hawaiano lo ho Instabile Instabile hawaiano lo ho Instabile hawaiano lo ho Instabile hawaiano lo ho Questi nostri sempre è il il telegrafo Roberto Felini con un sol con un sol è tardo di andare è schermo scomparire mandaranci prima gelano instabile instabile fitness lo tenere togliere vendere instabile fitness lo vendere danza sportiva v mondanze att inc l'azienda fa il che il ci è Instabile Guaiano Ma rimanere e cercare di vedere